Che cosa si svolgerà questa sera? Faremo una conferenza a Calcinelli dal titolo Maschio e Femmina Li Creò, riflessioni intorno all'ideologia gender. E quindi di che cosa si parlerà? Quale sarà l'argomento principale? Cercheremo di raccontare che l'universo maschile e l'universo femminile hanno un fondamento biologico distinto e che pertanto non sono il frutto di una scelta culturale, ma appartengono a ciascuno di noi, maschi e femmine così come siamo nati e come siamo stati creati. C'è anche un lavoro che viene effettuato nelle scuole per i ragazzi? Sì, in realtà proprio in questi anni, dal 2010 in avanti, su indicazione dell'Unione Europea, si sono attuate politiche, si stanno attuando politiche che vanno sotto il nome di strategia nazionale per cercare, con la logica del contrasto alle discriminazioni fondate sull'identità di genere, di far passare un'ideologia per la quale tutti i generi sono uguali, non più maschile e femminile, ma qualunque genere a partire da una scelta personale.